Si sono fatti la guerra, cento morti ammazzati e più di cento tentati amicidi. Erano due i clan in lotta, Cosa Nostra e Stibda. Ancora un morto ammazzato questa sera intorno a... ...strage, una vera guerra quella di questa sera a Gela. I feriti sono almeno... I investigatori non oscludono la presenza di un cimitero della Marchese. Con lui salgono a 58 i morti della sanguinosa faida gelese. Un altro fatto di cronaca si è verificato oggi a Gela, mentre ancora l'opinione pubblica... Le indagini sul gravissimo episodio intanto seguono decisamente la... Ad ucciderlo sarebbe stato un solo sicario che forse conosceva il percorso della sua vita. Un nuovo colpo quindi sterrato contro i pastori dal clan d'Ince... Ancora un omicidio dunque a Gela. Una guerra inarrestabile nonostante l'impegno proclamato dalle istituzioni contro la criminalità... Una vera e propria guerra si è scatenata questa sera a Gela. Gli omicidi a Gela sono ripresi al ritmo dei tempi più neri degli ultimi due anni, dell'88 e dell'89, cioè i tempi duri della faida. Dopo appena due giorni dall'uccisione di una giovane... Sulla bilancia del crimine c'erano centinaia di milioni per i lavori da eseguire alla diga di Sueri. Cosa nostra estida, tutto nacque il 23 dicembre del 1987, il dublice omicidio Lauretta Cocconini. Il nostro interlocutore Emanuele Celona, collaboratore di giustizia, che noi abbiamo raggiunto in una località segreta del Nord Italia, ci spiega il perché di quel duplice omicidio. Gli stidari hanno sempre comandato e imbassato a Gela. Madonia non ha comandato a Gela, anche perché gli Emanuele, lo zio degli Emanuele, che si chiamava Angelo Formicolone, era lui che comandava, poi gli stidari hanno ammazzato, diciamo, ad Angelo Formicolone. Allora gli Emanuele poi hanno fatto la guerra agli stidari e poi con gli Emanuele si ci è affiancato Madonia. Ma la guerra è Gela, l'hanno cominciata gli Emanuele. Perché l'ha cominciata Piddu Madonia già a Gela la guerra? Non l'ha cominciata Piddu Madonia. Piddu Madonia Gela, sì, ci veniva, ma non aveva quella tutta, non comandava, diciamo, come i veri, quelli che comandavano gli stidari, sto parlando dell'87. Poi è scoppiata la guerra che gli Emanuele hanno cominciato a fare, diciamo, i primi omicidi. E poi è subvengiato Madonia, che Madonia è venuta a dare un aiuto alla famiglia, hanno fatto un'alleanza. E perché gli stidari uccisero Angelo Emanuele, lo zio di Daniele? Ma per interesse, perché diceva che mangiava troppo, dice Angelo Formicolone. Per cui i vari stidari che all'epoca c'erano, i vari Coccomini, Lauretta e Gio Colano, hanno deciso questa cosa. Emanuele Celona, Cagela e inteso Daniele. È nato nel 1973, già nel 1989, dunque all'età di 16 anni, ha avuto i primi guai con la giustizia. Ma lì era più che altro una recettazione di una vespa che era stata rubata da Massimo Ferrigno, diciamo, era stata rubata all'epoca. Ci hanno trovato con quella cosa denunciata a un'altra persona che abitava, incontrata a Scavone. Massimo Ferrigno aveva una pistola, l'aveva avuto, diciamo, per cui io ero concorrente di questa persona che aveva torto la vespa ed era successo quella storia. E più si era fatto dare dei soldi, era successo quella cosa. Lei è ritenuto dagli inquirenti vicino al gruppo Emanuele, Cosca Madonia, dunque Cosa Nostra, è stato più volte segnalato per l'associazione mafiosa. In un caso, era il 10 maggio del 1996, è stato anche arrestato per avere aiutato un esponente di spicco della consorteria mafiosa a sottrarsi alla cattura. Sì, io, sin dai primi anni, diciamo, sin dai periodi 90, ero già stato avvicinato a clan Madonia, più che altro era alla famiglia Argendi Emanuele, io ero avvicinato. Poi la famiglia Argendi Emanuele faceva parte con la famiglia Linzivillo, dove il capo indiscusso era Madonia Giuseppe Piggio. I miei primi arresti sono stati, uno è stato il mio primo arresto che ho avuto con la giustizia, è stato uno il 19 novembre del 91, per l'associazione estorsione. Quello era il processo Bronx, sono stato riarrestato per Bronx II, dove i carabinieri avevano trovato un libero mastro, quello nostro, nell'abitazione di Gioacchino la Cognata nel 1992. I carabinieri hanno fatto un'operazione che veniva dominata Bronx II. In questa operazione c'erano dei commercianti che parlavano e ci accusavano, tra di quali a me mi accusava per esempio un Gertonino Miceli che aveva congestionaria. Inizia immediatamente la collaborazione con i carabinieri, pur non essendoci una denuncia formale. Successivamente viene fuori quello ormai divenuto famoso libro mastro che i carabinieri trovarono nel momento in cui facevano una perquisizione nel quartiere Bronx. E lì non era più il Miceli che pagava, ma c'era un elenco di 50 commercianti che pagavano. Non c'era solo il concessionario automobilista come i Celi, c'erano altri concessionari, c'erano farmacie, c'erano supermercati, c'erano rivenditori di giocattoli, c'era di tutto e di più. A tappeto? Era a tappeto. Ma chi le chiedeva i soldi, Dottore Miceli, era Cosa Nostra o i rappresentanti della Stiglia? Inizialmente il discorso partiva da Cosa Nostra. C'è anche da tenere presente che io nei 22 anni che ho vissuto a Gela, prima di questa vicissitudine, io non avevo mai avuto richieste di denaro. E l'avere un pomeriggio incontrato un esponente di spicco del clan di Cosa Nostra e avendo avuto uno scambio di battute che parte, esplode la rabbia nei miei confronti, per cui l'incendio, per cui la richiesta dei soldi. Quindi prima è Cosa Nostra, ma dopo alcuni mesi, altra telefonata notturna dei carabinieri, altro ingendio. Io ho messo in regola imprenditori, altre persone sottoposte a istruzioni, sì, parecchie, centinaia, per dire. Lei sai che poi Nino Miceli e anche Germelo Ardenti, titolari rispettivamente della Lancia, Autobianchi e della Benetton, sono fuggiti da Gela? Sì, sì, perché noi avevamo fatto parecchio danno alla Lancia, mi ricordo quando c'era Davide Emanuele, l'argento Emanuele di Guido, che era all'epoca il capomandamento. Abbiamo fatto parecchio danno alla Lancia, l'abbiamo proprio costretto, tra virgolette, perché poi ci andavamo, ci andavamo a prendere le macchine, magari non li pagavamo a prezzo come si doveva saccherare sul mercato. E poi, dopo che abbiamo noi continuato a fare questa cosa, è subentrata anche la Stig, a farci anche la Stig l'estruzione, per cui lui si è dovuto, prima pagava soltanto a noi, che poi noi ce lo divedevamo con la Stig, e poi ha dovuto pagare anche la Stig, tra virgolette. Anche la Stig ha fatto la stessa cosa, mi ricordo Razzaglietti di Gaglietti, diciamo, facevano la stessa cosa. Ma come faceva il clan di Cosa Nostra a capire l'entità che avrebbe dovuto chiedere ad un negoziante? Il Racket sceglie, diciamo, una persona, vedendo che l'esercizio che è aperto va bene, e che magari non si apparende, tra virgolette, di persone affiliate, allora uno decide se ci presenta, almeno ai tempi mei era così, noi ci presentavamo direttamente, senza fare nessuna telefonata, ci presentavamo al commerciante, ci dicevamo, guarda, io sono il tizio, sono della Cosca Tizio, Cosca Madonia Emanuello, e da oggi ci devi dare una somma che veniva data, per esempio, ci dicevamo 50 milioni, poi 50 milioni diventavano 10 milioni, e poi lo mettevamo a regola, in base a quello che pensavamo noi alle entrate, che poteva avere il commerciante, diciamo, ci facevamo dare i soldi, poi decidevamo un milione, 2 milioni, 500 mila lire, dipende, diciamo, l'entrata che aveva. Poi, come avvicinarlo? Si poteva avvicinare in tanti modi, se noi pensavamo che la persona poteva parlare facilmente, andarci a denunciare, tra virgolette, Rajbirro, noi lo facciamo contattare tramite amici vicino a lui, allora questi amici vicino a lui, che erano poi amici nostri, cercavano di ammorbidire il commerciante, il frate dicevano, ci conviene, paga, che ti costa, tutte queste cose di qua, e poi quando noi ci andavamo, andavamo a colpo sicuro, senza essere denuncianti. E se il commerciante si rifiutava di pagare? Il commerciante, quelle più dure, noi ci distruggevamo il negozio, o ci bruciavamo le macchine, o ci bruciavamo le campagne, le ville che avevano in campagna, cosa che è successo in passato, o se no dipende, diciamo, da che cosa, diciamo, pensavamo di fare. Celona, a proposito di danneggiamenti, perché ogni notte a Gela si verifica un attentato incendiario? Ma lì ormai è diventata una cosa quotidiana, anche per il fatto che ormai l'incendio è anche, sì, parecchi sono riconducibili a raccate, ma parecchi anche non sono riconducibili a raccate, in quanto ormai anche, per esempio, il marito che è stato, ci hanno fatto per esempio le corna, pensa di andare a bruciare la macchina, diciamo, al suo rivale. Ci sono tanti parecchi, diciamo, incendi che sono, diciamo, in questo genere. Questi tipi di attentati hanno tante motivazioni, non sono soltanto, sempre e solo soltanto, di matrice mafiosa. Alle volte ci sono piccole vendette personali, alle volte possono avere una colorazione politica, locale, nel senso di avversari di certe cose. Quindi diciamo che non si può generalizzare. Di volta in volta si dovrebbero fare le indagini, ma spesso manca la collaborazione della vittima, che non dà quelle, diciamo, dritte che possano portare magari gli organi inquirenti a scoprire l'autore. Noi quando decidiamo per incendiare un negozio o distruggere qualche cosa, è perché vediamo che quello ha avuto la testa dura, quel commerciante o imprenditore non vuole pagare, e allora si decide quale precauzione prendere. In accordo con la stidda però, perché la stidda, se noi facevamo dei danneggiamenti, noi avvisavamo alla stidda, guarda che noi danneggiamo a questo, perché questo è cornuto, e allora la stidda dava il consenso. A stessa cosa la stidda, se doveva andare a mettere, c'era qualche imprenditore o qualche commerciante che aveva testa dura, doveva andare a fare il danneggiamento, ci diceva, guarda, danneggiare quel bar ci pensiamo noi, danneggiare quella cosa ci pensiamo noi. A Gela il 10 novembre del 92 fu assassinato Getano Giordano, che si ribellò al pagamento del pizzo. Quella è stata una cosa, una risposta che ha voluto dare la stidda più che altro, senza nessun consenso, lì non hanno preso, perché forse eravamo allo sbando, perché lì era il periodo che succedeva un blizzo ogni 15 giorni, 20 giorni. Per cui quella è stata una risposta che ha voluto dare i capi della stidda all'epoca, Orazio Paolello, per dire, dice, va, qua a Gela si deve pagare, perché questo omicidio è stato dopo che avevano arrestato a noi, nell'operazione Bronx 2. Noi siamo stati arrestati il 6-7 ottobre del 92 e il commerciante è stato assassinato dopo un mese circa. Giordano e il figlio stavano scendendo dalla Panda Fire 750 di colore blu, quando due sconosciuti in sella ad un Vespino e con i volti scoperti li hanno affrontati, sparando una decina di colpi di pistola calibro 9 corto. Cinque hanno raggiunto il commerciante al petto, uno dei quali molto probabilmente li ha trafitto il cuore. Uno ha colpito il figlio ad un gluteo con foro di uscita a linguine, quattro invece sono andati a vuoto. L'agguato pare non abbia avuto testimoni. I sicari sono stati certamente aiutati dalla scarsa illuminazione della strada della via Verga, garantita solo da piccole lampade a neon e interessata da qualche giorno a lavori per la posa in opera di tubazioni e rifacimento del manto stradale. Lui ha denunciato i suoi estortori ed è morto. Non ci sono parole? Non ci sono parole per... È troppo grande per noi la mafia, è troppo grande. Queste sono le nostre armi, speriamo di poterlo accelere a fare, ma è troppo grande. Quel commerciante aveva il diritto di essere tutelato. È stato forse uno dei pochi carri che è riuscito a battere il muro dell'omertà. Dobbiamo cambiare, questo è l'inizio di una lotta. Quelle che abbiamo sentito sono alcune delle dichiarazioni di Emanuele Celona, il collaboratore di giustizia. Ma chi è realmente Emanuele Celona per la Polizia di Stato? Celona Emanuele è oggi un collaboratore di giustizia, il quale ha, prendendo le distanze dall'organizzazione a cui apparteneva e soprattutto dalla consorteria mafiosa di Cosa Nostra, denominata Madonia, dal suo vertice Piddu Madonia, ha reso agli organi investigativi e agli organi giudiziari una serie di dichiarazioni utili a ricostruire gli avvenimenti delittuosi di numerosi anni, sin dall'inizio della guerra di mafia in cela al 2002, anno in cui lui appunto diviene collaboratore di giustizia. Ma come si diventa mafiosi? È il giovane che cerca la mafia o è la mafia che sceglie i suoi soldati? Il giovane è attirato dalla persona carismata, diciamo, per esempio io Celona, allora il giovane si avvicina a me, che ero Celona, sapevano chi ero, chi non ero, diciamo, sapevo tutti, per esempio, il valore che uno aveva nel campo della criminalità, e allora il giovane si avvicinava per guadagnarsi, diciamo, i soldi facili, perché quella attira molto, diciamo, i giovani. E poi c'era anche il fatto che loro, una volta che ci stavano vicino, aspiravano a entrare, anche mettendosi a disposizione, facendo i primi danneggiamenti, le prime, diciamo, le prime cose che noi ci ordinavamo. E lei come ha fatto? No, a me mi è venuta una cosa molto facile, perché già c'erano, dentro questo nostro, già c'erano i miei fratelli, sia Luigi che Angelo, che già avevano commesso dei delitti di omicidio. E poi c'era, quando io ero ragazzino nel 90, io ci sono entrato tramite Argente Emanuele di Guido, che all'epoca poi ha rivestito la carica di capomandamento. Quanto guadagnava un soldato di Cosa Nostra? Ma niente, una miseria, valutato, diciamo, a giorno come oggi è proprio niente di che. Ma dipende, 500 mila lire, un milione, chi era magari più in gamba arrivava un milione e mezzo, ma non di più. Qual è la carriera del picciotto di mafia e come si passa dall'estorsione alla rapina all'omicidio? Cioè, come si diventa killer e come si diventa boss? Ma quello è, diciamo, molto semplice, perché quando tu hai preso la fiducia dei, chiamiamo, di quelli che comandano, diciamo, è molto semplice, quando tu sei un ragazzo, diciamo, sveglio, porti a compimento delle istruzioni, diciamo, delle buone istruzioni, senza essere arrestato e porti dei guadagni alla cassa, o quando fai degli omicidi e, diciamo, vedi che quell'omicidio si affianca a una persona che già ha fatto, uno che, diciamo, non ha fatto mai omicidio e viene sempre affiancato da una persona che già gli omicidi li ha fatti. Per cui viene sempre curata e si nota poi da quello che ci riferisce la persona che lo accompagna e si capisce se è una persona che può continuare a stare dentro la Cosa Nostra o no. Manolo Ecelona ha deciso di collaborare con la giustizia. Lo ha fatto perché il fratello Luigi nel 2001 capì che era meglio mettersi dalla parte dello Stato. Io nel 2001, quando sono stato scarcerato, il 16 ottobre, se non ricordo male, c'era mio fratello Luigi che collaborava da circa 8-9 mesi circa, perché è stato il gennaio 2001, se non ricordo male. E quando sono scarcerato ho trovato a reggere, diciamo, le file, diciamo, altri appartenenti a mio clan. Io ero del gruppo Emanuele. E questi personaggi erano Francesco Vella, Dharma Armando e Alessandro Gambuto. Io mi sono ingongiato con queste persone perché una volta che sono uscito da caccia mi sono ingongiato con queste persone. Abbiamo parlato, loro mi avevano detto che problemi non ce n'era, che mio fratello era mio fratello per Luigi e che io ero io. E che per ora, diciamo, visto che ero uscito da poco da caccia, di godermi la libertà e che per il resto le cose stavano andando bene per come dovevano andare. Io ho detto, guarda, io sono a disposizione, fatelo sapere, dico allo zio, allo zio Emanuele, dico che... Anzi, dico, quando c'era la possibilità, dico, di ingongiarlo, dico, lo vorrei, dico, ingongiare perché volevo, dico, chiarirmi, dico, determinate cose. La differenza è che a me non mi hanno mai, diciamo, come dire, la cosa che hanno avuto, diciamo, con me, forse perché avevo avuto un fratello collaboratore, era per il fatto che loro a me non è che mi chiamavano per andare a fare riata, anche perché io ne chiedero a un ragazzino che doveva andare a fare danneggiamenti o dove potevo fare come si chiamava. Siccome le cose stavano andando in una certa maniera, allora, uscendo io, che prima ero il reggente del clan, mi potevo andare a scontrare con loro, ma io cosa che non ho fatto? Io, finché non avevo un colloco con Daniele Emanuele, io non mi volevo, diciamo, contrapporre, diciamo, ai miei stessi compagni, perché per me erano compagni, diciamo. Infatti noi ci vedevamo con, diciamo, io mi vedevo con i miei compagni, questi che ho nominato prima, e noi parlavamo delle varie attività illecite che si dovevano fare a Gela, che non si devono fare. Però devo dire che a me non mi hanno, come dire, non mi hanno chiamato effettivamente per andare a commettere che sono una istruzione a un imprenditore, qualcosa. Loro si era sbrigavano da solo. Io mi facevo la mia vita, nel senso, mi sono aperto dell'attività, mi sono fatto qualcosa a Gela e continuavo a andare avanti così. Gli affiliati in quel periodo hanno cominciato a tenervi d'occhio di quanto accadeva in Cosa Nostra. Non vi raccontarono più nulla. Col passare poi del tempo, lei e suo fratello Sergio avete cominciato a temere per la propria vita. È proprio in quel momento che avete deciso di pentirvi, di collaborare con la giustizia? Era il fatto che noi eravamo usciti da cacere dopo due anni e ci siamo messi a disposizione. Più avevamo il fratello collaborante. Per cui magari posso pensare che loro era un periodo di, chiamiamolo, di osservazione, tra virgolette, che magari il clan stava avendo verso di noi. E che, diciamo, io non pensavo che, diciamo, a lì per lì ci potevano fare del male. Anche perché, diciamo, c'era anche mio fratello che era anche lui uomo d'onore, come d'altronde ero io stato uomo d'onore riservato. Per cui non pensavo mai che, diciamo, per il fatto di mio fratello Luigi, il clan ci poteva fare del male. Io ho abitato a Gela, mi sono fatto l'attività, la libreria in Piazza Umberto I, che mi sono aperto una libreria, e cercavo di portare una mia vita avanti, diciamo, lecita, tra virgolette. Perché, diciamo, io non venivo chiamato per andare a fare attività lecita, e neanche io me le andavo, tra virgolette, andando a cercare. Perché anche a me mi piaceva godermi, diciamo, la libertà, stare a me, diciamo, tranquillo dopo quegli anni che ho vissuto. Io per la mia vita, tra virgolette, non ho mai temuto. Più che altro ho temuto per la vita di mio fratello Sergio. Perché io vengo arrestato per un residuo di pena, che era, se non ricordo male, era il 31 maggio del 2002. E mentre che mi trovavo in carcere, ricevo una letta del mio fratello, dove mi dice, mi mette a corrente, da mio fratello Sergio, dove mi dice, guarda, dice che i nostri amici mi volevano fare, dice, la lupare a bianca. Dice, me l'ha spiegato diversamente, dice, volevano fare, va, non volevo ammazzare. E ci ho detto, come ti volevo ammazzare? Dice, guarda, io me ne sto andando da gela, per cui dice, va, se esci da cacciare, statti, dice, a regolare. E da lì ho capito che effettivamente, dico, se i miei amici possono toccare a mio fratello, allora, dico, il legame portassi tra noi fratelli Celone, i fratelli Emanuello, e da lì si era rotto. Dico, perché se uno vuole toccare a mio fratello, allora non è più, dico, è un mio amico. E niente, io da lì da carcere ho mandato una lettra alla distrettuale Andimafia, ora non mi ricordo se era dottor Patte, dove gli dicevo che io, uscendo da carcere, volevo collaborare con la giustizia. Cosa che ho fatto poi nell'ottobre 2002. Cosa nostra, avrebbe voluto uccidere Emanuele Celora. Eh sì, mi volevo uccidere perché, diciamo, era, innanzitutto era Rinella Salvatore. Un altro pregiudicato questo pomeriggio, intorno alle 17 in Contrada Scavone, è stato bloccato. Salvatore Rinella Di Venti, che transitava nella zona alla vista degli agenti, si è dato alla fuga. A seguito di una perquisizione, addosso gli è stata ritrovata una pistola calibro 9. che poi era in compagnia con altri affiliati, che Ferrigno Marco, sì, mi volevano uccidere perché io ero stato messo a capo dell'organizzazione per conto di Daniele Emanuele, per cui io gestivo l'organizzazione a Gela. e c'era stata l'altra francia opposta, tra di quali c'era questo Rinella che faceva parte, che poi erano i fratelli Ciubbia Emanuele e altri, che non vedevano in buon occhio la mia reggenza a clan. Per cui, per vari motivi, ci siamo trovati, diciamo, in questa cosa. Allora, loro hanno pensato di ammazzare a me perché effettivamente ero il primo obiettivo, diciamo, da eliminare. Emanuele Cialone è stato un estortore, è stato un mandante di omicidio. Il duplice omicidio Emanuele e Ciubbia Sultano, il duplice tentativo omicidio, sempre Emanuele Giubbia Emanuele e Antonio. E poi altri fatti, estorsione, traffico di stupefacenti, e in più, altri fatti, diciamo, non saprei quantificare, perché essere, diciamo, dire che oggi come oggi è macchiato di due, tre, quattro fatti di sangue, non lo può uno dire, perché? Alle volte uno si può trovare anche in concorso per un omicidio, anche perché si trovava alla riunione o perché, diciamo, ha dato un sostegno, diciamo, per quell'omicidio. Però verifatti e proprio da me è stato quello di Emanuele Giubbia, ordinato, diciamo, da Daniele Emanuele. Bilancio tragico, ieri sera Gela dopo il duplice omicidio nella sala da barba nel quartiere San Giacomo in cui Emanuele Trubbia, 27 anni, e Salvatore Sultano, 23, sono caduti vittime della sanguinosa ferocia dei killer. Sette ore dopo ancora sangue scorso sulle strade di Gela. Sangue che scorre sulle strade della città che ricorda i momenti bui della guerra di mafia che dall'87 al 92 fecero registrare 110 morti ammazzati e altrettanti tentativi di omicidio nella Faida, Trastid e Cosa Nostra. Sarebbero appartenuti tutte e tre alla famiglia di Piddu Madonia, tre delitti che, secondo gli inquirenti, vanno inquadrati nell'ambito di una lotta interna alla cosca, fazioni in guerra per la conquista del vertice di un'organizzazione mafiosa che non ha mai perso il controllo delle attività illecite del territorio. Emanuele Trubbia, fratello di tre pentiti era uscito da carcere da poco, assolto dall'accusa di associazione mafiosa appena ritornato in città, avrebbe cominciato a tirare le fila dell'organizzazione e poi l'ha scalata al vertice, ma doveva fare i conti con il boss ancora latitante Daniele Emanuello, reggente della famiglia Madonia di Piddu Madonia. Sultano, scaltata l'ipotesi della totale stranetà ai fatti sarebbe stato ucciso insieme con Trubbia perché suo complice nella scalata al vertice. Emanuele Trubbia è stato ucciso perché si era congiapposso alla volontà di Daniele Emanuello, poi tutto sommato se l'è cercata lui, io ho cercato di onestamente di oppormi a questa esecuzione, a parte che non volevo scontrarmi tra virgolette con i fratelli Trubbia perché già avevano avuto due o tre fratelli penditi e non volevo farci ammazzare a Pasquale Trubbia o a un altro fratello. E' stato ammazzato perché era congiapposto, perché loro hanno cominciato a spararci e noi poi per dare l'esempio, diciamo, per dare anche una risposta al clan di Insevillo che a Gela comandava gli Emanuello abbiamo voluto ammazzare questa persona. Devo dire che io all'inizio quando Cascino Nunzio mi ha portato l'ambasciata dello zio che si doveva ammazzare questa persona, all'inizio lì mi era un po' diciamo... mi era un po' diciamo... ci è rimasto male perché io a Giubbia Emanuele abbiamo fatto un incontro fino a aprile del 99 abbiamo fatto un incontro dove ha partecipato anche Emanuele Terlato e altre persone e io gli avevo dato la mia parola che non succedeva più niente. Per cui... poi un altro dei motivi era perché una volta che succedeva uno del sangue a Gela il primo obiettivo per gli inguirenti, anche perché gli inguirenti lo sapevano che a Gela ed ero io che reggevo le redini sia la polizia che i carabinieri il primo a essere arrestato ero stato io cosa che poi avvenne il 31 luglio del 99. C'erano tante armi a disposizione del clan di Cosa Nostra ma dove venivano custodite? Si sceglieva una persona a chi affidarle e si facevano tenere queste armi in passato abbiamo avuto dei Covid dove si tenevano le armi E dove erano si può sapere? Ma nelle varie campagne Spinasanda, Zona di Vittoria nelle varie campagne Una vita caratterizzata dunque da lutti da tanti omicidi, da sangue ma perché un ragazzo accetta di vivere una vita da fuori legge? Dipende in che ambiente uno vive anche quello fa tanto che magari quando si è piccoli non si hanno diciamo non hanno avuto magari culturalmente diciamo inseriti a qualche parte come io per esempio vedo ora in giro in tutta l'Italia me ne accorgo per esempio faccio un baracone al nord e vedo per esempio delle persone che mandano i figli da piccoli mi mandano in piscina mi mandano a scuola di ballo mi mandano a calcetto ci insegnano una cultura diversa forse perché c'è anche più disponibilità forse perché a sud c'è meno disponibilità di queste cose per cui vedo in base a come cresci in base all'educazione anche che ti danno i genitori che se per esempio un genitore vedrebbe che un figlio frequenta persone che a modo dire sono persone conosciute a Gela per un certo tipo di fama e se avrebbero avuto un padre o una madre bella forte di cippare l'orecchio tra virgolette allora penso che magari un ragazzino diciamo si potrebbe anche un po' recuperare ma siccome secondo me non ci sono le strutture adatte non vengono seguiti da nessuno anche il fatto di non andare a scuola per esempio per i ragazzini sembra una cosa invece io me ne accorgo oggi che senza scuola non puoi fare niente non puoi vivere perché sennò fai sempre una vita da mendicante Emanuele Cionola traccia un quadro abbastanza chiaro di quanti sono i mafiosi presenti a Gela ma soprattutto quanto guadagnano I nomini sono tanti diciamo i clan Madonia Emanuele Renzivillo sono tanti 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 ci sono anche persone indosportabili diciamo in questa categoria fare un numero ma secondo me saranno più di 300 E quanto guadagnano ora? Ma all'epoca quando c'ero io si guadagnava sui 150 milioni 200 milioni diciamo al mese che venivano poi divisi in due poi tutto dipende dagli apparti che venivano fatti a Gela in base più apparti c'erano sia a Gela o nel territorio di Gela e noi potevamo avere le entrate Perché un mafioso si sente forte, potente al di sopra dello Stato? Ma secondo me perché diciamo perché quando secondo me si diventa mafioso diciamo lo Stato lo vede come diciamo una persona diciamo un nemico lo vede un nemico per cui si sente forte in quanto lui comanda Gela diciamo parlo di Gela lui comanda Gela e per cui dice va dici io comando dici che sono e tu dici alla fine fai l'impiegato ma quando un uomo uccide un'altra persona non si cura venivamente dalla presenza di donne e bambini ha uno scrupolo di coscienza come si sente dopo? queste cose erano vietate vietatissime diciamo quando uno come andava a commettere l'omicidio e si vedeva che era accompagnato con la moglie o col figlio uno doveva desistere a commettere l'omicidio e andarsene anche perché queste cose non era permesso dentro diciamo il nostro codice invece me ne accorgo che anche diciamo gli ultimi periodi gli ultimi anni si ammazzano i bambini diciamo ci vanno di mezzo anche le donne e quello è un comportamento che fa molto riflettere io mi ricordo una volta vicino a carcere a carcere vecchio venne ammazzato da maggio e lì diciamo quando poi sono ritornati quando poi sono ritornati diciamo chi l'ha ammazzato quando sono ritornati sono stati rimproverati da una parte sono sono stati diciamo hanno detto avevano fatto un bel lavoro ma proprio da una parte sono state rimproverate dicendo che quello aveva la moglie e il figlio dentro la macchina per cui diciamo il regente Emanuele di Guido si era incazzato quella volta la forza la forza della mafia del racket è frutto anche della paura della gente onesta non le pare si si anzi soprattutto è quello perché io dico se a Gela diciamo le persone denunciassero tutti non diciamo il singolo il singolo il singolo non fa niente denunciare il singolo poi viene isolato dagli altri commercianti quello non va bene se invece vengono secondo me denunciano tutti che quando si presenta qualcuno subito fanno la denuncia subito e secondo me diciamo darebbero un aiuto a se stessi a non essere diciamo a pagare il pizzo e a farsi succhiare il sangue e un aiuto anche diciamo agli altri diciamo dare coraggio agli altri e vedere che la mafia non dico se che si può sconvincere perché è una parola molto grossa però si può combattere diciamo chi si presenta a essere arrestato in poco però devono capire che non devono avere vita facile diciamo chi si presenta perché io mi ricordo diciamo fino ai miei tempi noi ci andavamo a presentare lì e ci andavamo a casa tranquilla senza che sapevamo che il commerciante non denunciasse noi eravamo con questa convinzione infatti era quella ora se il vento cambierebbe sarebbe una cosa molto bella diciamo sia per Gela sia per tutti per le persone oneste denunce denunce i commercianti devono denunciare il racket delle estorsioni ma gli stessi commercianti hanno timore hanno paura delle vendette da parte dei clan di un vento di un vento di un vento io non lo so se è inclusato questa cosa è cazzo ma io ti ho detto di essere meglio che stanno subito meglio che stanno pane sicuramente è meglio che stanno al fondo a nessuno mi ha paura una estorsione e spazio mi ha ne chieda ho capito ho capito se ho andato tutta la famiglia la spazio non mi ha mai chieda perché denunciamo tutto il paese in cielo si è buttato tutto a subire non mi ha subire e basta mi ha paura tutta la estorsione è buona perché non mi ha mai starmo oltre per se mi chiede per se vincere per se tutto e io devo sopportare pure questo ma che stai a dire che stai a dire ma come ho toccato un film la mia famiglia stai violendo eh che danno domani stai a dire che stai a dire che stai a dire così non lo so che ti a dire non lo so che ti a dire queste cose portano a capatare a mia stai a dire roba e me ne vai ma che stai ma io ne è che me ne vai perché mi c'è due rigi che stai a papà vincere non lo so ne sentiamo domani se giuremmo tanti soldi un fiume di soldi ma c'è un contatto della mafia è un professionista noi il cassiere ce l'abbiamo sempre avuto tra virgolette diciamo chi teneva noi decidevamo chi tenere la cassa no professionista no io dei professionisti posso dire che ci sono dei professionisti che sono amici nostri amici sia di Cosa Nostra che della Stigia e che diciamo per la Cosa Nostra o per la Stigia diciamo si mettono a disposizione ma c'è la c'è il rapporto tra mafia e politica e come si intreccia? il rapporto tra mafia e politica c'è stato sempre io mi ricordo sin da quando ero bambino ai tempi quando c'era era c'era il gente Manolo Di Guido quando abbiamo fatto per Gionvranco Occhipindi quando poi abbiamo fatto altre altre cose sì esiste sempre ma esiste anche negli ultimi tempi anche fino a nel nel 2002 è esistito questo patto diciamo fino a che io collaboravo con la giustizia il rapporto c'era sempre a me pare che la vita di un mafioso sia caratterizzata anche dalla paura di essere scoperto di finire dunque in carcere se non addirittura di essere ucciso da un killer nemico o da un insospettabile nemico c'è questo stato di ansia perenne secondo lei? la paura c'è che una persona una persona diciamo a finisce in carcere quella si c'è e come si c'è perché io in questi miei anni diciamo anche di carcerazione ho visto parecchie persone che per esempio fuori facevano i duri e poi quando arrivavano in carcere diciamo chi si metteva a piangere chi si metteva diciamo facevano tra virgolette diciamo i bambini ma voglio dire dico proprio vedevi delle scene che uno dice ma tu eri tu dici quello che andavi a intimidire diciamo e c'era anche così la paura è cerco ma che vita è quella del mafioso che vita è quella della sua famiglia se decide sempre di farsi una famiglia la vita di un mafioso è molto complicata sia a livello perché quando tu è già a far parte di un'organizzazione ti devi poi guardare anche dai tuoi tra virgolette amici poi soprattutto i nemici e per cui diventa una vita complicata perché lì si devono commettere per entrare diciamo per entrare diciamo chiamiamolo in mese in mensile senza lavorare per prendere i soldi devi commettere dei reati per cui è una vita sempre sopravvivere dentro una giungla perché diciamo devi stare attento se ti possono ammazzare devi stare attento se la polizia carabiniera ti possono arrestare devi stare attento a tante cose la vita per una famiglia per un mafioso secondo me è la più triste perché quando uno si fa una famiglia poi il 99,9% viene sempre arrestato perché tra virgolette i nomi si leggono sempre quelli uguali sono quelle diciamo che si leggono sui giornali per cui i figli non vedono mai i padri e poi non vengono mai cresciuti come si deve è un rapporto molto distante si vive male io mi ricordo mia diciamo esperienza diciamo io non mi ricordavo più di festeggiare un Natale con i miei familiari io non sapevo neanche cosa era un Natale festeggiare con la mia famiglia non sapevo neanche cosa era Pasqua festeggiare una Pasqua con i miei dico invece ora posso dire diciamo scegliendo la vita che sto facendo mi accorgo anche diciamo il singolo giorno è molto bello diciamo viverla con i propri familiari starci accanto nelle feste che diciamo che ha figli diciamo li può seguire poi i figli vogliono il padre accanto tutte queste cose lei è sposato diciamo che ci sono stato se convivevo con una ragazza ora non più una vita segnata quella del mafioso Celona e se vuole uscire dall'organizzazione che cosa succede poi è possibile uscire da cosa nostra diciamo si esce in due modi o fai collaboratore di giustizia come faccio io o esci con i piedi davanti diciamo poi altri modi non ne puoi uscire anche perché chi si allontana da cosa nostra rischia di farsi ammazzare diciamo anche perché diciamo i capi possono pensare che un giorno quello può collaborare con la giustizia e allora lo può mettere lo può mettere in difficoltà o farlo arrestare per cui non si esce se ne tornasse indietro cosa non rifarebbe più tra le sue prime scelte ma di quello di essere un mafioso sicuramente in una campagna elettorale infuocata quale quella delle amministrative a Gela con il sindaco Crocetta che poi riuscì a vincere le elezioni con il 65% dei consensi si è sempre fatto il nome di Emanuele Celona perché? il rapporto che c'è stato in passato con il sindaco diciamo Crocetta era che io avevo avuto una libreria a Gela che avevo come già ho detto dichiarato avevo avuto una libreria e lui all'epoca faceva se non ricordo male l'assessore alla pubblica istruzione e io siccome dovevo fare un dovevo fare dei stand nella piazza che poi ho fatto diciamo a Gela e gli sono andato da questa persona e gli ho detto dico senda dico io siccome vorrei fare qualcosa dico per Gela dico vorrei fare dei stand fare una bella cosa cultura di Gela visto che io c'è una libreria dico in società con un'altra persona dico vorremmo fare questa cosa lei dico ci può fare dico da patrocino da patrocino diciamo a questa cosa manifestazione e magari non ci farà pagare solo il pubblico non ci farà dici sì perché dice no dice anzi dice una bella cosa dice che fate di Gela dice è bella cosa ma però il sindaco il sindaco l'assessore non sapeva effettivamente chi era e chi non ero diciamo qual era il mio passato diciamo che era stato in quella diciamo che io avevo vissuto in Cosa Nostra per la campagna diciamo elettorale io non ce l'ho mai diciamo condotta che io qualche volta al sindaco gli prestavo che qualche volta ci siamo andati a mangiare assieme sì quello sì che qualche volta diciamo il sindaco voleva per esempio la luce perché doveva fare comizio a Gela io visto che avevo la libreria di fronte allora gli facevo mettere le spine diciamo ma questo sì ma a condurre la campagna elettorale per il sindaco no effettivamente diciamo io non ho mai condotto una campagna anche perché io non ne capisco diciamo di politica alla sindaco di Gela Rosario Crocetta hanno rafforzato la scorta doveva venire addirittura un killer dalla Lituania per ucciderlo e ultimamente la polizia ha sventato un altro agguato perché il primo cittadino gelese è così odiato dalla mafia a me mi dispiace che diciamo il sindaco venga diciamo preso in questa viene preso a questa attenzione significa che darà fastidio diciamo per essere preso in questa attenzione vuol dire che darà fastidio diciamo alle cosche di Gela il fatto che lui vuole la legalità e secondo me anche il fatto degli apparti che io ho letto sui giornali anche il fatto che il sindaco fa fare gli apparti con i carabinieri presenti fa fare allora quello è un danno per le cosche perché prima noi pilotavamo diciamo tra virgolette gli apparti noi decidevamo chi doveva presentare la busta chi non la doveva presentare e se la presentava qualche impresa di fuori veniva contattato direttamente da noi e gliela facciamo ritirare la busta o con qualche cavillo che succedeva per esempio veniva aperta veniva fatta la veniva buttata fuori come è capitato diciamo trovo drammatico che un sindaco che in sicilia decide di fare le cose per bene debba vivere continuamente con la minaccia della propria vita nella condizione di durezza in cui vivo io non farà mai un passo indietro rispetto al passato non manco per idea debbano fare loro un passo indietro perché la mafia deve essere sconfitta dalla dichiarazione di Celona suffragate anche da altri collaboratori di giustizia si delinea un quadro uno scenario particolare la mafia già l'ha controllato sia il calcestruzzo che il mercato delle carni ma non soltanto ma anche soprattutto quello della spazzatura il nostro maggiore di guadagno è stato sempre nella spazzatura nella spazzatura abbiamo avuto un guadagno enorme diciamo circa all'epoca erano 40 milioni o 50 milioni diciamo delle vecchie lire quando li davano le 99 per cui il nostro guadagno più maggiormente era lì diciamo ogni mese prendevamo quei soldi e poi ce li dividevamo in due tra stile e cosa nostra grazie tra l'altro alle sue dichiarazioni la magistratura ha individuato a Gela numerose aziende in odor di mafia le chiedo perché l'impresa si appoggia al crimine l'impresa si appoggia al crimine perché l'impresa va cercando gli apparti gli apparti e poi le imprese piccole vanno cercando i super parti molte imprese molti lavori venivano controllati proprio da Cosa Nostro Stil decidevamo noi gli apparti e i super parti diciamo a chi affidarli lei ha pure detto che Cosa Nostra e Stil avrebbero gestito il trasporto della frutta nella provincia di Caltanissetta Sì noi abbiamo creato una ditta che era stata creata con i soldi provvendenti delle istorsioni e della bisca e che noi abbiamo investito diciamo su quelle attività e quelle attività venivano gestite da persone di fiducia sia della Stil che di Cosa Nostra nel clan malavitoso non soltanto uomini ma anche donne mogli sorelle probabilmente anche cugine ma che ruolo hanno nel contesto del gruppo malavitoso hanno un ruolo importante hanno un ruolo che ci sono state certe donne che hanno fatto anche degli incontri con altre diciamo con altre persone uomini d'onore o portano ambasciate da un da un affiliato a un altro affiliato o per esempio vanno a colloco il marito gli dice di portare un'ambasciata artizio e la donna gliela fa avere ci vuole spiegare come è nata Cosa Nostra Gela già degli uomini d'onore già ci sono stati sempre i vari diciamo i vecchi capi mafia bevi l'acqua polara il rinzivillo la vera famiglia nacque nel 1991 la vera famiglia di Cosa Nostra Gela con capomandamento capodecina consigliere tutte queste cose di qua è nata con le varie frange diciamo che all'epoca gli Emanuello gli Argenti i Trubia i Celona poi i vari diciamo affiliati singoli diciamo che si sono messi sotto unica ala che era all'epoca Piggio Madonia a Gela a tanti capi si sono succeduti in Cosa Nostra da Madonia a Polara ad Argenti a Daniele Emanuello il boss è rimasto ucciso il 3 dicembre scorso durante le fasi della subiettura a Villa Priolo in provincia di Enna sparatoria nell'ennese muore il boss gelese Daniele Emanuello il latitante rifugiatosi in un casolare nelle campagne di Villa Priolo è stato colpito da un proiettile alla nuca mentre tentava di scappare rinvenuto un fucile Emanuello uomo d'onore era ritenuto il reggente di Cosa Nostra alle prime alle prime ore del mattino stava albeggiando gli uomini della polizia gruppo catturanti avendo identificato il luogo in cui probabilmente si trovava l'Emanuello hanno circondato una masseria sita in Villa Priolo hanno intimato a chi stava dentro di arrendersi l'uomo che stava dentro poi identificato come l'Emanuello dalla parte retrostante del caseggiato si è buttato giù in un terrapieno ha scavalcato una recinzione e nel momento in cui cercava ancora di allontanarsi dalla casa è stato attinto da uno o due colpi questo lo accerteranno le verifiche sanitarie necroscopiche gli accertamenti balistici da uno o due colpi di arma da fuoco sparato dagli uomini che cinturavano la zona se a Gela non si uccide più se non si registrano morti e ammazzati lo tutto si deve ad un'azione capillare portata avanti con particolare attenzione quotidiana da parte delle forze dell'ordine la polizia ultimamente ha arrestato numerosi estorsori nelle immagini che stiamo per proporvi vi facciamo vedere come due estorsori vengono arrestati in flagranza di reato subito dopo aver ottenuto il pagamento della tangenta sostanzialmente come gli estorsori chiedono ad un altro imprenditore di Gela quanto deve pagare non è la prima volta che noi no perché voi chiedevate all'ingegnere l'ingegnere purtroppo che quando congiene questo genere di lavori ha avuto indecidenza di retta capi e vuole rimanere fuori io sono ingaricchiato di lavori faccio parere con voi parere con me questa stessa cosa intanto scusatemi io faccio anche l'interesse mio e la lavori che io rappresento a quella parola di 4 metri ragazzi potremmo ci chiedere mandato questo raccomando con un milione di euro le seconda volta è lei che si deve informare che se no si deve avere le vostre richieste se noi possiamo arrivare o non arrivare io sono ora quando hai avuto a parte ma voi lo sapete meglio di me quanto è il lavoro questo 559 euro non è stato in bucchia non è stato in bucia non è stato in bucia mi hanno informato con i venti per tempo di ribassi che abbiamo avuto arriviamo a 559 euro ma a nero non guarda che è che è impegnato sull'office no no nel modo che è stato vuole dare due due a che cosa due percento ragazzi due percento sapete quanto so quanto so due percento sono quanto so due per 5 10 19 euro quando hai interesse lavorare e quando hai lavorato io già i soldi io ho costato io ci ho e molto non il denaro che non avete visto voi è fisso di fossa mi trovo una busta quasi mi interessò 5 milioni euro sono 10 milioni ma prima mi dovete tagli della precisa garanzia se non sono vio non vedo le garantie non c'è male le garantie non c'è male non c'è male no c'è male kanske La polizia dunque grazie ad un microfono ambientale ha registrato tutto, tutto quanto accadeva tra due sforzori giolesi ed un imprenditore. Passano pochi secondi dalla consegna della busta, la polizia interviene e arresta tutti. La polizia interviene e arresta tutti. In questi ultimi anni a Gela, nonostante gli omicidi, la guerra di mafia è stato fatto un eccezionale sforzo, da parte delle forze dell'ordine e anche di alcune istituzioni e si è finalmente squarciato quel velo di omertà, per cui abbiamo registrato la collaborazione da parte di alcuni imprenditori e da parte di alcuni commercianti. Sono seguiti tantissimi arresti di pregiudicati affiliati a clan di Cosa Nostra e anche della Stida. Noi dobbiamo proseguire in questa direzione. La squadra mobile di Caltanissetta e tutta la polizia di Stata è impegnata in questo senso, così come le altre forze dell'ordine, però occorre veramente continuare e soprattutto colpire i beni dei mafiosi, perché credo che questa sia la nuova frontiera. Non basta mandare a giudizio i mafiosi per le estorsioni che hanno commesso, per i reati fine che hanno commesso, ma occorre sequestrare i beni, quindi togliere loro il potere economico-finanziario, perché questa è la nuova frontiera che dobbiamo perseguire. Solo così Gela potrà considerarsi davvero libera dalla mafia e da ogni tipo di violenza mafiosa connessa. Finalmente a Gela qualcosa si muove. C'è una successione anti-racket denominata Chetano Giordano, in ricordo del commerciante ucciso il 10 novembre 1992. Questo è il numero telefonico 335-12-28089. 335-12-28089. Il presidente dell'anti-racket è Renzo Caporetti. Nel 2005, dopo due anni di riunioni fatte con un gruppo di commercianti che avevamo individuato tramite Tano Grasso, tramite l'aiuto del nostro sindaco Rosario Crocetta, riuscimmo finalmente a trovare un gruppo di persone, persone coraggiose che avevano tutta la buona volontà di risolvere i problemi gravi che attanagliava la città di Gela. Così nel 2005, proprio nel 19 maggio 2005 fu costituita la nostra associazione. Fu un grande stupore per tutti i cittadini gelesi, perché mai si poteva parlare di nascita di associazioni anti-racket e addirittura mai si poteva mettere un cartello pubblicitario in cui si parlasse di anti-racket. Quindi pian piano, dopo il maggio 2005, incominciamo ad avere anche i primi associati. Ma soprattutto la cosa principale era quella di incoraggiare i commercianti e i imprenditori a denunciare. E così è stato, anche perché ricordo sempre le parole del Ministro Amato, il quale mi diceva sempre Caponetti si ricordi che un'associazione anti-racket che non produce denunzie non ha motivo di esistere. Mi fa molto piacere perché vedo che la gente si sta mobilitando e secondo me devono eseguire questo esempio, ma più denunciano e più meno criminali troveranno in giro, perché le risorse per andare avanti alla mafia le danno loro, se non le danno nessuno non è che possono ammazzare a tutti. Anche perché oggi come oggi, secondo me, non ci conviene alla mafia ammazzare le persone, perché se tocca a una persona vengono subito azzerati. Ma non soltanto un'anti-racket forte con Renzo Caponetti, ma anche una confcommercio presieduta da Rocco Pardo, giovane imprenditore di Gela, che invita i commercianti a denunciare. La svolta epocale per Gela è realmente avvenuta. Oggi noi commercianti ci costituiamo parte civile nei processi anti-racket e anti-usura, mentre prima non c'erano le condizioni per il commerciante di reagire al pizzo anti-racket. Questo grazie al lavoro fatto dalle forze dell'ordine, dall'anti-racket e anche dal nostro sindaco, principalmente dal nostro sindaco. Ma cosa è cambiato dall'ora ad oggi, dalla guerra di mafia ai tempi nostri? Ce lo spiega il dottore Bellomo, dirigente del locale commissariato di polizia. Oggi, chiaramente, dal punto di vista strutturale della criminalità, siamo in presenza di una pax mafiosa che ormai dura da anni, prodotto verosimilmente da una strategia, possiamo dire, di contrasto alla conflittualità, al conflitto cruendo che aveva stato negli anni passati, che aveva generato, soprattutto, se vogliamo, dal punto di vista della criminalità stessa, soprattutto collaboranti, che hanno determinato nei confronti delle stesse consorterie a cui hanno appartenuto danni rilevantissimi. Come dicevo, oggi, dal punto di vista strutturale, siamo in presenza ancora oggi di due consorterie che operano sul territorio di Gela, ma che in qualche modo hanno trovato accordi per la spartizione del territorio con riferimento alle attività più lucrose, dal punto di vista criminale, quali appunto quelle delle istorsioni e del traffico di stupefacenti. Ci sono tanti giovani in questo evento che la stanno ascoltando, cosa si sente di dire loro? Ma che, diciamo che la mafia non è una cosa molto bella. Io, se potrei ritornare indietro, sicuramente, se io avrei avuto una sfera magica dove mi diceva che la mafia era questa, perché io la mafia la vedevo come un amico, quando ero piccolo la vedevo tutto altro di quello che ho visto in questi anni. Io ai giovani di Gela direi che di andare a lavorare è la migliore cosa, che quello che possono fare col lavoro non lo possono fare con la mafia, perché la mafia non gli può dare quello che il lavoro può dare, diciamo onestamente. Poi il fatto che, il fatto di andarsi a dormire tranquilli, entrare nella mafia significa essere sempre, diciamo, soggetti a qualche cosa, o essere ammazzato, o essere arrestato per tanti anni. Quando si arriva in carcere è brutto, arrivi a essere da solo, in solitudine, poi ti portano nei vari carceri, non nella penisola, ma ti trasferiscono nei vari carceri fuori, perché ti ritengono pericoloso, per cui sei distante anche dai tuoi affetti familiari, per cui dico a tanti giovani che la migliore cosa è andare a lavorare, costruirsi un futuro, farsi una famiglia e tenersi stretto un posto di lavoro, che quella è la migliore cosa. La spinta alla delinquenza potrebbe essere minore se un giovane oggi, a Gela, come a Palermo, come a Napoli, potesse avere una scelta. Tu hai a disposizione un posto di lavoro a 1200 Euro al mese, oppure rischi spacciando la droga e guadagni 3000 Euro al mese. Penso che molti giovani, anche di fronte a questa prospettiva, sceglierebbero la prima delle soluzioni, quella onesta che ti fa lavorare in maniera serena e tranquilla, legale, anche guadagnando di meno piuttosto che quell'altra, che dà rischi, che può portare in carcere, che può portare a scontri, può anche perderci la vita, può dare lutti, sangue. Penso che nella prospettiva dei giovani che si affacciano alla vita e che cercano di risolvere il loro problema, forse se riuscissimo a dare più possibilità sotto questo profilo avremmo meno delinquenza. La delinquenza scaturisce anche dalla mancanza di lavoro? Certamente, non è la sola causa, perché certo quando vediamo dei giovani, soprattutto nei paesi, nelle borgate, nelle grosse città, che passano le giornate al bar o alla sala giochi e che quando vedono passare il mafioso con la sua bella macchina lo invidiano e sperano di fare quella carriera criminale, se hanno quegli esempi è chiaro che hanno quelle prospettive, se invece avessero altre possibilità forse non sarebbero affascinate da questo mito che poi come dicevo porta solo lutti, sangue, carcere e tante vite distrutte. Fare il mafioso vale la pena? No, 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 non vale la pena, io direi diciamo che a tanti ragazzi che posso dire con la mia esperienza che mi sono fatto, mi sono fatto quasi 8 anni di carcere, nell'arco del 91-2001, per cui io mi sono reso conto che ho vissuto un decennio di vita, 8 anni in carcere e 2 anni nelle fasi fuori, per cui ho detto, ma io come mai mi sono mangiato 10 anni della mia vita in questo genere diciamo di cose, quando se avrei avuto un posto di lavoro, avrei avuto una famiglia, mi avrei goduto i miei figli senza avere preoccupazione se sarei ammazzato o se si sarei arrestato. Cosa lascia la vita fatta di violenza e di illegalità? Niente.